I vigili del fuoco sono intervenuti in via Marghera a Padova per il distacco di un pezzo di muratura del vecchio stadio a Piani che è in fase di demolizione. Il detrito ha colpito una vettura in transito, ferita lievemente una ragazza a bordo del mezzo con la mamma. L'auto stava percorrendo via Marghera a direzione via San Micheli quando, transitando di fianco al cantiere, un pezzo di cemento della gradinata è arrivato in strada sfondando il parabrezza dell'auto. I vigili del fuoco intervenuti sul posto con il personale di prima partenza il funzionario di guardia e il comandante hanno eseguito un primo sopralluogo mentre la ragazzina è stata assistita dal personale sanitario del SUEM e poi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale e lo spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente.